Il cibo dovrebbe essere servito proprio a fredda. Ma no, è così, noi ci bagliamo in mezzo tra una portata e l'altra. No, no, è dire un po' che ha dato bagno, nel senso, un secondo tutto. E dopo il dolce, tra il dolce che... Eh, noi tra l'uno e l'altro ci facciamo bagno. Se lo fate, che io voglio il 50%. Va bene, no, così digeriamo un po', dai. Tra una portata e l'altra si digerisce così. Sì, ma dopo vedrai, vedrai dopo, ti stupirà. Ti stupirà. Ti stupirà. Grazie a tutti Grazie a tutti